Cioè lei ha 30.000... No, ma c'è, mi hai appena spoilerato la notizia. What? Scusami. Vabbè, signori, volevo fare un po' di poesia. Domanda retronica. Davvero? Sì. Perché lei ha dichiarato durante l'intervista che vuole a tutti i costi andare all'Eurovision per rompere le scatole del suo ex. Chi non lo sapeste è... Bjorn Borg. Ok. Che è un ex-tennista. Una leggenda del tennis. Una leggenda del tennis. Una leggenda del tennis che ha avuto una relazione con Loredana Bertè più o meno dall'89 al 92. Grande. Per cui lei si è trasferita in Svezia per lui, no? È stata una relazione disastrosa. Io, c'è, litigavano, lui possessivo, no? Lei ha dichiarato di averlo lasciato prendendolo ammazzate da baseball perché mentre eravamo in hotel insieme ha ordinato due prostitute. Cioè, robe strane. Se volete altri consigli su come boicottare il proprio podcast seguitemi. È, è... La bella straxia, è...